E buongiorno, buongiorno, siamo al Ghetto di Roma, un bellissimo quartiere, un bellissimo quartiere. E sai di insegnare? Volevo venire assolutamente, soprattutto perché volevo visitare la sinagoga. L'avevano chiuso ma hanno richiamato i guardiani per noi perché non poteva, cioè il rabbino ha fatto proprio questo favore, non potevamo andare via. Sapeva che venivamo, purtroppo siamo arrivati un po' tardi. Comunque abbiamo fatto un'esperienza unica, finalmente. Abbiamo pranzato in un ristorante coucher, che è la tipica cucina ebraica, dei dettami ebraici. Quindi adesso proseguiamo, buonissima, con la grigia, con la carne secca, veramente buonissima. E il carciofo la giudia. Quindi se venite a Roma non potete tralasciare il Ghetto, visitare il Ghetto ebraico. Bellissimo, tutto il mondo nel mondo. Rivederci a poco. Grazie. Grazie.